Ciao ragazzi e benvenuti in un nostro nuovo video Oggi parliamo un po' di una ristampa che dovrebbe uscire a maggio Noi ne parliamo subito perchè comunque questi deck legendari di Yuuki La prima versione era già uscita nel 2015 come possiamo vedere bene qui E volevo comunque portare sia i pareri adesso sia quando uscirà il mazzo I mazzi, se vorrete posso portare anche la versione cartacea dato che io ce l'ho Quindi fatemi sapere se magari volete vedere una versione cartacea delle carte Noi vediamo subito cosa troveremo Allora, Secret è la tartaruga elettromagnetica, è una delle carte promo Qui non sono messe in ordine però va bene I deck contengono i tre mazzi utilizzati da Yuuki durante tutto l'anime Ovvero nel regno dei duellanti, nella città dei duelli E l'ultimo quando non è più attaccato con lo spirito del faraone Ovvero quello che utilizza contro Atem nell'ultimo duello Allora, tartaruga elettromagnetica, Secret Glorioso soldato nero Quello rituale bellissimo BLS, immanchabile Mago nero Ragazza maga nera Gaia il cavaliere Teschio evocato Anatema del drago Tartaruga catapulta Il guardiano celtico non può mancare Drago al lato numero 1 Demone selvaggio Castoro guerriero Incredibile come si è riuscito a vincere il regno dei duellanti con questo mazzo Griffore Arfo mistico Soldato di pietra Mamut delle tombe E qui troveremo, perché in ogni mazzo avrà 5 ultra E 5 pezzi di exodio il proibito ultra rari E qui, e poi vabbè, ovviamente Kuribu che è la carta più devastante che abbia mai avuto Yugi E qui però manca una carta veramente importante, ovvero Zanna d'Argento ragazzi No, non sto scherzando, manca Zanna d'Argento, l'ho utilizzata spessissimo Poi Mostro resuscitato Spadriolatrici Scatola magica Controllo della mente Che è una carta che io utilizzo tantissimo ai tempi delle gotte Anche un po' dopo Recupera mostri Freccia spezza magia Che spacca tutte le magie scoperte dell'op Infligge anche 500 Quindi diciamo che anche per adesso non è molto male Corno dell'unicorno Luna mistica Curioso come c'è l'una mistica Ma non ci siano mostri tipo guerriero bestia Mi pare che ne è stato uno Terra infuocata Moltiplicatore Detonatore Machu La nuvola magica che disintegrò la grande falena Polimerizzazione Rito della gravelena Forza riflessa Cappelli magici stra abusati nella prima serie L'occhio della verità Cambio E Gaia il dragone Qui ci sono Qui c'è un'altra promo Rinnovamento oscuro Questa la utilizza Per la prima volta Arcana nell'anime Oppure comunque la utilizza Yuki Nell'ultimo duello Atem nell'ultimo duello Secret ovviamente Anche una carta abbastanza discreta Che quando viene evocato un mostro Dell'avversario Quando togliamo un mostro incantatore Mandiamo uno di quei mostri evocati dall'avversario Alcimi Anche il nostro mostro E poi cadiamo un mostro incantatore dal mazzo Molto buono Poi Ultra raro Alchino Guardiore magnetico Combattente dell'anime Acidavro Gilford I tre Cavalieri Berfumet Gazelle I tre Guerrieri magnetici Alfa Beta Gamma Gardena Grande scudo Sipario Magico Mille coltelli Formula magica Dimensione magica Esplosione a onde soniche Duplica magia Ectoplasmer Ectoplasmer Che è una carta molto Molto forte In handface tributiamo un mostro E infligiamo all'avversario Dando poi la metà dell'attacco originale del mostro Con questa si facciano Ovviamente skill Facciamo stare Ruba anime Anfora Distruzione di carte Scambio illuminato Diffusione Cilindro magico Cerchio incantatore Che questa sarebbe dovuta stare nel primo mazzo Così come la spada forza di luce Provo bene Distruzione a catena Corda dell'anima Tragedia Chimera La mitica bestia volante Poi Come secret Troviamo Illusione nera Anche questa Fa parte delle promo Fino alla fine di questo turno Tutti i mostri di oscurità Incantatore Con attacco 2000 Assurio E controlliamo Seremoni agli effetti delle carte Quindi E non possono essere distrutti in battaglia Quindi diciamo che è una carta Che potrebbe anche essere buona Poi Ultimo mazzo Mago del caos Oscuro Rituale Bellissimo Ultradaro Mago del caos Ultradaro Gandor Il drago della distruzione Mago silenzio Livello 8 Livello 4 Gli spadacini Silenti Tutti e tre L'ingannatore I tre congegni L'abile mago nero L'abile mago bianco Blockman Marshmallow Poi Bellissimo Il sarcofago d'oro Ultradaro Carta di santità Tacco mago nero Maghi riuniti Dimensioni della luce Dell'oscurità Rito magia oscura Magia ingannevole Livello 4 Che tributi Un ingannatore Scoperto che controlliamo E specialiamo In posizione di difesa Numero di Segnanti ingannatori Poi il numero Immossi controlla Di all'avversario Non possono attaccare Però comunque Sappiamo che ormai Si utilizzano per fare altro Emblema della mazza draghi Petri Di marshmallow Circolo del mago Ascia affrontumata Roccaforte La fortezza movente Riprestito miracoloso E paladino scuro In più qui Non ci sono ovviamente Le altre carte promo Che sono le Carte delle divinità egizie Tutte e tre In più Le tre carte De In viaggio Regno dei duellanti La mano del re E il regno dei duellanti Che erano le carte promo Più o meno Date da Pegasus Per partecipare Al primo Duelist kingdom Dico più o meno Perché lui non dava anche La carta bianca Che era quella che permetteva Sia a chi vincesse Il torneo Di ottenere quello che voleva Ma Pegasus La utilizzava Per intrappolarci le anime Quindi Ma poi Comunque vi porterò anche Se vorrete Il cartaceo Comunque Questo era un video Per parlare un po' Dei deck Perché a me Sono dei mazzi Da collezione Da prendere assolutamente Competitivo Di competitivo Non c'è niente Ma neanche Di for fun Tipo un paio di carte Comunque Da collezione Che sono dovuto prendere Per forza Il prezzo All'inizio Cioè Vedo adesso Sto venendo i preordini È di 30 euro Ma schizzeranno Come sempre Quindi se volete Prenderlo Prendetelo subito Niente Detto questo Noi ci vediamo In un prossimo video E fatemi sapere Sempre per la lista Cartacea Prendetelo subito